Sono Michele Bommino, il vice sindaco della città di Massafra. Vorrei aggiungere delle considerazioni. Condanno vivamente questo vile gesto che si è avuto stamattina a questo simbolo della città. Quindi prego, invito le forze dell'ordine, i carabinieri che sono molto operativi sul territorio di individuare subito i responsabili. Quindi condanno proprio questo gesto e nello stesso tempo vorrei aggiungere anche delle parole su delle considerazioni, su dei post, dei commenti che ho visto sui social. Pieni anche di cattiveria e di violenza. Quindi bisogna condannare e nello stesso tempo non usare termini, una violenza così inaudita anche sui social contro i responsabili. Che spero vengono individuati il prima possibile.